Ecco, ho visto, è l'altrata Champions. Sì, ho visto, ho visto Sosa. Sono anch'io Champions, adesso. Io penso di sapere, dov'è? Sì, sì, qua dietro. Non è ancora a sinistra, vabbè? Dov'è? Sì, sì, vabbè? Come here! I dare you! Sì, vabbè? Sì, sì. Sì, sì. Montan is dead there. IQ is down. Nice. Cambio caricatore! Brucerà parecchio. Sì, vede il cam, please. Về la che sta qui, lì. Mio dio GG Bella questa 2 one tap Porca troia Acquario Senzio 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 Da dove? Dai faccio la tripla 2 e 18 ho fatto So Ebbana ha già metà vita L'ho preso la Sponkin Mamma Dov'è? Ma senti Mamma Che tripla ragazzi Che tripla Che ho fatto? Oddio 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 ragazzi c'è YouTube Ma che cazzo Vabbè GG bella Oddio 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 Che chi l'ho fatto? Vabbè Ma Vabbè 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 Isc 50 secondes remaining I-4 eliminati Friendly mission successfull LOL RELOADING! OP4 found a bomb You must defend it Capcom? OP4 last operator standing Loading 9 Load weight trapped OP4 eliminated GG guys Che cazzo di chi ne ha questa? Altra da canale Ma che cazzo di chi ne ho fatto? Regano guardate Uuuup OP4 OP4 SCANI 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 RELOAD!